Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi un nuovo video del spacchettamento di campagna 10 sono ritornata sul letto come le brave pigle allora cominciamo bubble bath da mezzo litro orchidea e ardenia si presenta molto bene poi vediamo poi crema viso della Boncare idratante abbiamo tre auto abbruzzanti in crema con profumo tropicale e tropicale poi sempre bagno schiuma babbata da mezzo litro arancia e cioccolata e smucinando c'ho la mamma da un litro vedo che carini mezzo litro questo è profumatissimo in una maniera imbarzante quasi poi le matitine nuove della color trend c'ho una marrone e una nera ora lo trovo uno smalto della color trend da below vediamo questo è qui glitterini poi abbiamo uno shampoo BB dell'Advan Techniques una lacca una lacca sempre da Unbar Techniques crema crema per capelli BB la maschera poi abbiamo il talco per i piedi della Footworks poi 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 abbiamo un po' di deodoranti c'è qualcun'altro se li ho messi si boh vabbè comunque eccoli qua deodoranti roll on 48 ore questo invece da 72 da donna questi sono i minerali poi abbiamo qui una BB cream della color trend questa è una novità light medium ci sono più colori interessante poi Footworks una crema intensiva trattamento per talloni screpolati con burro de carité e oro divinatoli interessante poi un fondotinta new vi faccio vedere dopo il colore poi una crema intensiva per i galli questa la ricordo un pennello da fondotinta con la lingua di gatto è morbido serrimo le impugnatura nuova sono molto interessanti molto ergonomici un balsamo trattamento per capelli che cos'è trattamento senza risciacolo per capelli e 10 benefici balsamo di bellezza per capelli sempre della della botnick mix poi una spazzola che sta col cuscinetto classica spazzola per capelli lunghi poi abbiamo uno smalto gel no questo ah si è sempre uno smalto però della on true dopo farci vedere il colore poi i footwork sono sempre una crema intensiva per i galli questo non mi ricordo che cos'è ah questo è un rossetto matitone rossetto dopo lo faccio vedere poi questo è l'organizer da borsa carino praticamente tu dentro ci metti tutte le tue cose le chiavi il portafoglio il cellulare i documenti ogni volta che cambi borsa tu tiri fuori questo lo metti nella borsa veloce e pratico poi questa è un organizer invece da bagno carino che c'è il manichino quindi ti porti appresso le cose se hai più bagni o dalla vasca eccetera o dalla vasca al lavandino queste cose così molto simpatico e carino infatti è de plastica e caroccio poi uno gel shine da più facile un mascara witch out witch out si dirà così ma chi può dirlo un allungante poi abbiamo un altro smalto della color trend ma identico a quella quindi chissene un correttore della color trend e l'altra matitina che avevo detto una è nera e una è marrone ma tutto pure il packaging questo rosa che i pallini se capisce una massa ho preso dei leggings di jeans questa è la no jeggings jeggings scusate sono piattillati taglia 48-46 la prima ne ha presi due uno per lei uno per una sua amica speriamo bene e per finire abbiamo un completo matrimoniale mandorlo che è veramente bello questo color crema questo rosso caldo quei disegni delle mandorlo veramente veramente bello c'è la garanzia completo letto matrimoniale è bello 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 niente vi vado ad aprire le cosine sperando non farvi venire altro mal di mare eccoci qua allora questo è il matitone questa matita rossetto questo è il colore just rosy poi questo smatto top coat crazy confetti che è proprio simpatico questo top coat quei cosini rossini rosini fucsini celestini c'è un po' di tutto quindi poi questo smatto gel see my nail vabbè comunque questo celeste celestino celeste cielo come si chiama celeste celeste però è molto molto carino e questo è il fondotinta new il colore natural beige quindi potete vedere il colore che è bello scuretto cioè è per una persona normale sono io che sono chiara in maniera impressionante e la cosa bella è che io sono abbronzata questa è la cosa bella uno direbbe ma che cosa sto dicendo vi giuro che sono abbronzata faccio vedere gamba braccio e testa abbronzata io sono bianca ma dire che bianca è veramente dire poco e i miei amici che vengono al mare come lo sanno sono catarifrangente anche di notte quindi figuratevi niente detto questo ci vediamo al prossimo video come al solito spero sia stato utile sia voi clienti che voi presentatrici un bacio ciao